dell'ampi, delle polemiche per me indesistenti. A me piacerebbe che il 25 aprile, oltre che la gloriosa giornata di San Marco, fosse una giornata di unità nazionale dove non ci sono morti di serie A e morti di serie B, dove non ci sono le vittime dei nazifascisti che valgono di più rispetto alle vittime morte nelle foibe massacrate a migliaia solo per il torto di essere italiani e di essere anticomunisti. Un Paese che unisce finalmente e non usa i libri di storia per massacrare chi non la pensa.